Buongiorno, buongiorno, buongiorno Allora, buongiorno Vi presento Stefano Era Giulio ma Giulio è andato via E' arrivato Stefano Enorme, cioè lui va già All'università e non strada Allora, bambolone Buongiorno di nuovo Buongiorno anche dalla mia scimmia Che ora è già in crisi Perché ha capito che io usciamo E che lei ora deve andare fuori Perché non può Campare in casa Allora, letto Sparavaranzato Questi lenzuoli neri Sono quelli che vi ho detto che ho preso da Amazon Nello spacchettamento Che se riuscissi metterei Ma ci vuole il computer per mettervi I video qua su Quando io vi dico che ne so, spacchettamento Qua va a fare spacchettamento Però ci vuole il computer Quindi la linea con il wifi Che io poi non ho comprato Perché Quella che avevo trovato io È una sola Per poi quando cambi casa Io scommesso Che cambierò casa a breve Quindi Tutto fuori a scolar Ma Mi sono già fatta la skin care Devo dire che la pelle Ora non ci avete filtri È stramigliorata Stramigliorata Anche se ci sono comunque Dei piccoli grani di miglio Questo non so da che dipende Perché le mestruazioni Sono già venute Quindi adesso Ce facciamo Un coffee Ci vestiamo Ci trucchiamo E poi usciamo Perché devo andare In un ufficio a San Polo E poi devo andare A fare la spesa Qualcuno mi ha detto Che vi avevo già fatto vedere Buona Mi piace un sacco Perché Naturalmente Devo provarla Per il video Ho messo da parte Un attimo La Eugen Che poi riprenderò Quindi per un po' A skin care Sono a posto Sto usando Emish No Emish no Si chiama Emish Che questa appunto È una crema Al collagene Per il corpo Fantastica Perché io ultimamente La pelle è tanto secca Non so perché Perché ora Finché prendevo Ah tutte mi avete chiesto Del collagene Allora Io stavo prendendo questo Che è della Eugen Che è di Arin Che è collagene Liquido Dove c'è Collagene marino Acido ialuronico Pino Vitamina C Zinco Rame E biotino E devo dire Che la pelle Secondo me È migliorata tantissimo Anche per questo Ora Ma questa Sta finì È finito Non so se Siccome in fondo C'è rimasto un sacco di roba Non so se Muoverla Con un Con un Con un coltello E tirarla su E poi schiacciarla Perché secondo me È uno sprecone enorme Allora Non costa poco Però Secondo me Allora A me non mi è durato Un mese Perché io e Ari Ci siamo visti Verso il 10 Mi è durato Neanche un mese 25 giorni Però Se è veramente efficiente Solo che Ari Per me è un po' lontana Cioè non sarebbe lontana Ma lei oggi ha da fare Quindi in questi giorni Se non riesco ad andare da lei L'ho già trovato uno Su internet E su Amazon Che è Collagene marino Collagene marino L'ho già detto Acido Ialuronico Eccet 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 Stanca Perché come un po' il giorno Prima avevo veramente Dormito tutto il giorno E figlioli Allora Io Questo è il problema Uno dice No Tutti lavorano Tutti non dormono Tutto il giorno Avete ragione Il mio problema Non è infatti Il lavorare È svegliarmi alle 4 e mezza Eccola Il mio problema È svegliarmi alle 4 e mezza Non è tanto Il se per se Di lavorare Perché Lavori ok Ti riposi un'oretta Eh Vero mimma Ora io sono da portare giù Anche la spazzatura Ma con lei Perché la dovrò prendere il collo Fra qualche giorno Viene Lucky Allora Ho letto Un post su Instagram Che mi ha distrutto Di un canino di 3 mesi Che fra parentesi La ragazza che me l'ha dato Chi mi ha dato Lucky Che l'hanno ammazzato Gli altri cani Ragazzi Io ve ne prego Vi scongiuro Adottate Adottate Non comprate cani In l'allevamento Vi prego Ma non perché loro piccinini Siano da meno Ci mancherebbe Però Il cane d'allevamento Ci fa sempre soldi qualcuno Io fosse per me Le toglierei gli allevamenti Perché se voi volete Un cane comunque di razza E vi piace un certo tipo di razza Voi l'adottate questa razza La trovate tranquillamente Io mi volevo prendere Il Bull Terrier Che avrei preso Avevo anche già trovato Ma ho trovato la E la maggior parte Dei Bull Terrier Sono figli unici Quindi lo dovrei prendere Da cucciolino Il Bull Terrier Va bene Mi fumo sta cicca Perché altrimenti Sono già 5 minuti di chiacchiere E ci vediamo fra poco Allora Prossimo acquisto Appena si riscuote La Aspirapolvere Ora ho dato il silenzio Aspetto che si asciughi Ci vuole L'aspirapolvere Quando ci stanno Gli animali Perché la cazzo di scopa Non riesce a prendere via Ogni cosa Anzi la roba Vola a destra e a manca E quindi ci metti Quel quarto d'ora 20 minuti in più Allora Outfit di oggi Ho scelto La tutona Dell'Adidas nera Perché comunque Fuori non è bellissimo Altrimenti Avrei preso quella Avrei messo Quella più chiara Reggisenino Con le spalle Che stanno fuori Questo Che però Con il reggisenino Fino così Ci starebbe bene altro Però io non ho Momentaneamente Reggiseni Che non si vedano Le spallucce Questo è l'outfit Quindi se vestiamo Ci trucchiate Col trucco Che piace tanto a voi Tuta Bellissima Col fiori dietro Adoro 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 Vediamo se riesco A farvi vedere il trucco Che a voi vi piace tanto Che mi chiedete di farlo Ma sono asciuga Fa schifo Cioè nel senso È carino da vedere Da lontano Ma se poi lo guardi Da vicino Capelli Da fare Cazzo Non l'avevo visto Mi è arrivata La collaborazione Con HelloFresh Mangiare È veganissimo Vi portano A mangiare a casa Io l'ho preso Naturalmente Vegano A parte il corriere Che era un passero Non ve lo voglio dire Infatti ora Mi ha chiamato Col numero Camilla adesso Gli manda il numero E sente se fa Oh ma io è te Un scida Un caffè Che probabilmente Poi non posso neanche Mandargli i messaggi Perché sei quello del lavoro Ma noi la tentiamo Comunque Poi vi spacchetterò tutto E vi farò vedere Ok Ho spedito Un messaggio Bene è finito Parto Vado Allora Questi di qua secondo me trombano Spesso si sente mugolare E gli dico sempre a quella Ma mugola per bene Ma fate sentire Da tutto il condominio Allora Bon vado Mi devo ricordare anche di comprare un par di cose Cosa che non mi ricorderò mai Naturalmente E mi volevo mettere L'u-jacket Spice girl L'u-jacket Spice girl Questo secondo me è troppo leggero Quello sta figo O mi metto questo peloso Ma sì Spice girl Madonna quanto li odio Quando viene questa riga dritta di qua Eh Vabbè Bom Parto Video della mattinata Spero vi sia piaciuto Così cambiamo un po' Perché sennò duvallega mi fa sempre stesse cose Prendo lo zaino Perché ci devo infilare Tutta la spesa Che farò E vi vorrei Portare con me a fare la spesa Ma poi mi imbarazzo E quindi non lo faccio Ciao chiche Fate le brave La miscia l'ho portata fuori In cazzata nera Come sempre Ora arriva l'ahi Quindi si deve abituare